L'oroscopo di Astra Ben trovati appuntamento con l'oroscopo di giovedì 7 maggio. Ariete, qualcosa ti dice di provarci con tutte le tue forze, che sia la ricerca di un lavoro o di un nuovo amore poco importa. Quel che conta è giocare con determinazione le tue carte, perché gli astri nemmeno oggi ti sono avversi. Toro, lamentarti serve a poco anche perché non hai molte ragioni per farlo. Vitalità e grinta, infatti, sono vicine al top e la lucidità non è un illustre sconosciuto. Eros e sentimento accendono di emozioni il passo di coppia. Gemelli, che tu non sia uno che pianifichi ogni aspetto della giornata è un fatto, ma forse è meglio non lasciare troppo spazio al caso, perché corri il rischio di non sapere che pesci pigliare se qualcosa comincia a girare storto. Cancro, allo stato dell'arte non hai molto di cui preoccuparti. C'è che il fisico risponde bene alle sollicitazioni e che la forza d'animo ti sostiene. Una ragione in più per darti da fare, per stare con gli amici e per abbandonarti all'amore. Leone, il mix di ottimismo e intraprendenza è quello giusto, perché quando anche la lucidità ti sostiene non rischi di girare a vuoto. Può tradirti solo l'eccesso di sicurezza e la voglia di strafare. Cerca di tenerlo a mente. Vergine, non è il giorno giusto per cambiare in corsa i tuoi piani, non hai sufficiente lucidità per tentare rapide correzioni di rotta e anche l'intuito non ti dà una mano. Peccato, perché con la grinta che ti ritrovi, di strada puoi farne parecchie. Bilancia, vale la pena tentare. Perché accontentarti solo di ciò che passa il convento quando puoi fare tu all'intera posta in gioco? Hai ragione di essere ottimista. Negli affari, come in amore, la strada anche oggi è in discesa. Scorpione, remare controcorrente non è il massimo, specialmente quando, come oggi, le acque sono agitate. Non è che tu abbia grandi possibilità di scelta, puoi fare poco per invertire la rotta. Puoi intravedere la luce in fondo al tunnel in amore. Sagittario, a forza di provarci qualcosa di buono deve uscire fuori prima o poi, perché è meglio vivere di rimorsi che di rimpianti. La luna nel segno ti dà la carica giusta e il tuo ottimismo procede. Col partner però c'è ancora qualcosa da chiarire. Capricorno, sei abile a distribuire le forze tra i doveri quotidiani e le ambizioni di più ampio respiro, perché la perseveranza paga e nessuno lo sa meglio di te. Con l'energia che ti ritrovi, nulla oggi può davvero spaventarti. Acquario, l'estro non ti tradisce e se chiedi gli straordinari alla lucidità non resti a secco. Come base di partenza, per lanciarti nuove avventure, può bastare. A patto però di limitare certi eccessi di spavalderia e di fretta. Pesci, la confusione che ha in testa è figlia delle distrazioni e delle emotività. Con la luna e mercurio in rotta di collisione col tuo segno, può capitare di prendere lucciole per lanterne. Rimanda a tempi migliori, chiarimenti col partner. E anche per oggi è tutto. Grazie per averci seguito. L'oroscopo di Astra torna domani. Buon proseguimento.